Rotelli, cioè la settimana in cui bisogna privatizzare forse l'Ama, te ne vai a Filadelfia? Non lo so, io ho fatto tanta fatica tutte le volte che il Papa partiva, per esempio seguirlo nelle Filippine, fare scalo ad Addis Abeba, mi toccava seguire il Papa, no scherzo, non sono mentato, non sono... Era una maestà! Mi ha trasmentito la vera! Non sono la maestà, non sono la maestà, no andava sempre nei Filippini. Però lei ha detto veramente che andava a vacanza tra Anzio e Ostia, mai oltre quello. Io per incontrare il Papa mi travestivo da pastore e andavo alle quarte del mattino al santuario della Mentorella, dove lui andava la mattina molto più vicino, verso Capranica, pre-nestina, lui andava molto... Adoro questo rutello in versione comica! Molto devo, molto devo, quindi per incontrarlo mi specializzavo, facevo, alzavo le tre e mi mettevo vicino al santuario della Mentorella, era più pratico, diciamo, perché questi viaggi nelle Filippine andava continuamente... Faticosissimo! Sì, perché si doveva fare scalo una volta... Casarini, non faccia quella faccia, la prendiamo a ridere, che dobbiamo fare? No, lei si rende conto! Non si mancherebbe! Prendiamola a ridere! Dopodiché, questo di Marino, secondo me, è un caso tipico, che dimostra che non basta essere puliti. Marino è uno pulito, in mezzo a un mare di non diciamo che cosa, ma non basta essere puliti, non basta cambiare, solo dal punto di vista morale o etico, il governo. Questo è quel ruolo lì, perché bisogna essere politicamente sintonizzati con il mondo che si ha.